eccoci benvenuti a tutti eccoci aspettiamo magari qualcun altro e nel frattempo diamo un po' di informazioni di servizio allora ovviamente lo spazio ultimo sarà lasciato alle vostre domande per capire un po' insomma quali sono i vostri dubbi quali sono le vostre perplessità e chiarire ovviamente tutto quello che è il nostro potere in più ovviamente vi do questa bella notizia seguiteci fino alla fine di questo webinar perché ci sarà una sorpresa per voi un'offerta ovviamente riservata solamente a chi ci seguirà fino alla fine e non ve ne pentirete esatto poi Fabio aggiungo anche che comunque sia tutti i partecipanti riceveranno poi una mail con la registrazione del webinar chiaramente poi l'offerta di cui parleremo sarà valida solamente oggi a quelli che partecipano però poi se vorrete magari vedere le slide o la registrazione avrete tutto alla fine poi del webinar ci sarà anche uno spazio per le domande quindi se avete qualche curiosità mentre vedete il webinar fateci pure la domanda poi risponderemo alla fine quindi questo è un po' di info di servizio prima di iniziare vorrei farvi fare un sondaggio che ve l'ho posto adesso per capire visto che appunto parliamo di smart working se state già facendo smart working nella vostra azienda non so se vedete il sondaggio sì penso lo vedano tutti quanti come pop up in sovrimpressione perfetto magari diteci se lo vedete o non lo vedete giusto per capire un attimo com'è la situazione vedo già che tre hanno votato sì quindi già qualcuno avrà sperimentato appunto lo smart working ok siamo qui ovviamente per insomma capire approfondire un pochettino l'argomento adesso vi racconteremo un po' di cosa parleremo quindi passeremo insomma insieme questa pausa questa pausa caffè esatto esatto Francesco direi di cominciare poi nel frattempo insomma tutti quanti risponderanno al sondaggio perfetto allora partiamo con innanzitutto col presentarci io sono Fabio Stelludi mi occupo dell'area commerciale di Voxloud guido un team commerciale quindi supportiamo ovviamente i nostri clienti e potenziali tali per trarre il meglio dal nostro servizio in questo ovviamente ci è di aiuto Francesco Pastoressa Francesco ciao Fabio io appunto mi chiamo Francesco Pastoressa sono marketing manager di Voxloud quindi guido e coordino il reparto marketing e appunto quello che facciamo noi è comunicare i vantaggi di Voxloud alle aziende quindi Fabio andiamo subito magari nel merito e dici cosa vedremo in questa webinar in questa mezz'oretta assolutamente allora oggi ovviamente parleremo un po' di come sfruttare lo smart working per innanzitutto diventare più competitivi nel vostro mercato nella vostra nicchia quali strumenti andare a scegliere per rendere lo smart working il più efficace possibile e soprattutto parleremo di un caso studio 50 dipendenti smart da oltre 3 anni e non andremo molto lontano Francesco vuoi raccontarci un pochettino diciamo come ad oggi quali sono gli studi come va lo smart working in Italia? certo sì diciamo che se ne parla tanto di smart working però è anche bello andare a vedere quali sono i numeri dello smart working in Italia qui abbiamo raccolto appunto dei numeri dati da una ricerca dell'osservatorio smart working 2022 del Politecnico di Milano quindi sono aggiornati già qualche mese fa quello che notiamo è che più della metà delle imprese che attualmente hanno provato lo smart working vogliono mantenerlo questo è un dato importante perché chiaramente l'altra percentuale di imprese diciamo che magari hanno provato lo smart working non lo mantengono semplicemente perché hanno una struttura che non è adatta allo smart working quindi si parla magari di industrie manufatturiere fabbriche quindi dove c'è proprio presenza fisica delle persone dove però in realtà il lavoro può essere fatto senza una presenza fisica obbligatoria ecco in questo caso qui sono moltissime le aziende che vogliono mantenerlo attualmente sono 3 milioni più di 3 milioni e mezzo i lavoratori in smart working in Italia attualmente questa è una percentuale che magari può sembrare non troppo ampia però ricordiamo che sulla totalità di lavoratori dipendenti in Italia 3.6 milioni significa quasi il 15-17% della totalità quindi è un numero diciamo molto molto ampio poi è importante anche parlare del risparmio che si può avere con lo smart working sempre secondo la ricerca un risparmio a postazione in cui una persona fa smart working due giorni a settimana quindi neanche tutta la settimana completa va da 500 fino a 2500 euro di risparmio a postazione quindi qua chiaramente va incluso appunto il costo dell'elettricità del caffè magari del cibo spostamenti e quindi tutti questi costi relativi appunto non soltanto al lavoro ma anche poi al dipendente allo spostamento quindi posti poi posto questi dati andiamo a vedere adesso quale può essere diciamo il futuro come andrà ad evolversi nei prossimi anni sempre secondo la ricerca ci sono tre percentuali molto interessanti che ci fanno capire cosa i dipendenti quindi le persone vogliono dallo smart working e quindi quello che potrebbe essere e sarà molto probabilmente il trend nei prossimi anni l'80% afferma che c'è un miglioramento netto dell'equilibrio tra vita privata e lavorativa chiaramente magari dateci anche voi qualche opinione tra chi di voi l'ha provato però anche nel nostro caso io e Fabio che lavoriamo in smart working abbiamo Fabio lo confermerà c'è un netto miglioramento appunto tra questo equilibrio tra vita privata e vita lavorativa quindi questo è quasi un dato di fatto poi il 77% dei dipendenti vuole continuare lo smart working e il 66% afferma di essere più produttivo quindi diciamo che qua si va quasi a sfatare uno dei miti per cui ha lavoro da casa e quindi non sono produttivo in realtà diciamo che quasi sempre è il contrario c'è più focalizzazione utilizzando quegli strumenti giusti si riesce a comunicare anche meglio con meno perito di tempo quindi diciamo che sono dei grossi passi avanti questi smart working però Fabio è prima di tutto poi una mentalità diciamo giusto? assolutamente sì ok e questa mentalità la possiamo racchiudere in questo termine remote first giusto? che cos'è? spieghiamo poi che cos'è questo remote first sì sì remote first sostanzialmente diciamo viene tutto creato e ottimizzato prima di tutto appunto per un ambiente di lavoro da remoto quindi sostanzialmente è una cultura ok spesso e volentieri si cade nell'errore di considerare il lavoro da remoto il semplice spostamento dei dipendenti dall'ufficio a casa ma in realtà il lavoro da remoto è molto di più significa proprio trasformare la propria azienda per andarla ad adattare ad un ritmo e ad un'organizzazione di lavoro diversa ok da quella che avviene esclusivamente in ufficio e questo ovviamente ci sono degli esempi di cose remote first ad esempio possono essere le procedure le regole gli strumenti da utilizzare ma anche banalmente l'arredamento dell'ufficio quindi come Francesco un'azienda può diventare appunto remote first si diciamo che qui abbiamo incluso i quattro quattro punti su cui bisogna lavorare esatto quattro capisaldi su cui bisogna lavorare per rendersi remote first che appunto come diceva Fabio non è semplicemente dismettere l'ufficio e lavorare da casa ma significa anche magari tenere l'ufficio lavorare anche in ufficio però ragionare sempre fare tutto quello che si è sempre fatto però pensando prima e diciamo mettendo in primo posto il lavoro da remoto quindi per fare questo è molto importante andare a documentare nozioni e processi cioè ogni attività che viene svolta in ufficio deve essere procedurata cioè scritta in maniera semplice su magari un file word un file condiviso e scritta in maniera molto molto comprensibile di modo che se il dipendente che lavora in ufficio dove magari avendo un dubbio va a chiedere al collega quando questo dipendente qui poi lavora da casa va al collega a fianco e può chiedere informazioni o fare qualche domanda però avendo queste procedure questi documenti scritti cioè come mandare una mail come approcciarsi al cliente come aprire un ticket di assistenza se tutto ciò viene scritto e condiviso allora il dipendente potrà lavorare ovunque basta che abbia accesso a queste documentazioni quindi dà molta più autonomia e anche molta più rapidità nel trovare le informazioni rispetto ad andare a chiedere ad una persona perché sembra molto banale no è più facile andare a chiedere al tuo collega perché ti risponde ma nella realtà dei fatti non è sempre così magari il collega è impegnato in una riunione magari non c'è magari gli mandano ma non risponde esatto mentre avendo un documento sempre disponibile questa disponibilità aiuta è importante misurare le performance una delle obiezioni che spesso si fanno è ma se i miei dipendenti in quanto imprenditore lavorano da casa come posso controllare che è un termine brutto però monitorare le performance quanto stanno producendo e se stanno lavorando certo e poi le performance Francesco sono insomma quelle che ci interessano di più quindi è assolutamente uno dei punti primari insomma capire quanto performano sia che la si lavori da casa sia che si lavori all'interno dell'ufficio esatto perché in ufficio chiaramente c'è la presenza fisica quindi è più facile senza anche andare a chiedere diciamo delle metriche andare a vedere se la persona poi lavora e produce e raggiunge poi target da remoto non essendoci questa presenza fisica è più difficile quindi come fare il modo più diciamo facile anche oggettivo e intelligente per farlo è trovare degli indicatori di performance che poi in inglese si chiamano KPI noi lo utilizziamo moltissimo significa avere poi un modo per misurare quello che viene fatto traslato poi più in concreto cosa significa significa che se un team commerciale che lavora da remoto come ad esempio quello di Vox Loud perché abbiamo diversi venditori che lavorano propriamente da remoto Fabio lo sa bene perché è il reparto che gli dà lo stesso come assicurarsi ad esempio che questi venditori sentano i potenziali clienti chiudono contratti e facciano vendite lo si fa ad esempio chiedendo quanti contatti sono stati chiamati quindi numero di magari telefonate effettuate numero di contatti magari vedendo la CRM che sono stati lavorati e quanti poi sono stati chiusi nel caso ad esempio di un reparto di assistenza basta andare a monitorare la quantità di ticket aperti chiusi e risolti quindi diciamo che avendo questi numeri qui alla mano è facile poi monitorare e riuscire a far crescere in una maniera anche più consistente l'azienda il terzo caposaldo è ridurre al minimo le riunioni ora chiaramente in ufficio questo accade moltissimo che si tratti di riunioni diciamo ufficiali di lavoro o le riunioni tra virgolette quindi pausa caffè o magari scambiare due chiacchiere con il collega per motivi di lavoro o meno tutte queste diciamo questi break e queste riunioni che servono assolutamente col lavoro da remoto possono essere ridotte al minimo e devono essere ridotte al minimo per evitare poi di essere magari interrotti nell'attività quotidiana che si vada a fare certo ma soprattutto diciamo le riunioni perché spesso e volentieri nelle aziende si indicano riunioni o meeting con più persone magari del dovuto quindi includendo più persone del dovuto oppure magari ecco riunioni davvero inutili di cui si parla del nulla quindi ecco andare a ridurre all'osso le riunioni veramente importanti e far sì che partecipino solamente le persone interessate a quel tipo di riunione a quel tipo di argomento di cui si parla nella riunione è sicuramente uno dei diciamo delle cose che fa svoltare un'azienda ok facendolo recuperare tempo ai propri dipendenti per far sì che facciano altro quello insomma per cui sono chiamati esatto e focalizzarsi poi sulle attività che stanno facendo e questa cosa qua chiaramente ci viene in aiuto la comunicazione perché lavorando da remoto c'è un tipo di comunicazione che si chiama asincrona cioè non è come noi adesso io sto parlando con Fabio sto parlando con voi nello stesso momento ma magari posso inviare un messaggio e l'altra persona può rispondermi qualche minuto dopo questa cosa qua diciamo che porta diversi vantaggi perché se vado da un collega e gli chiedo un qualcosa però non ha una risposta immediata allora in quel momento lì tra virgolette bloccherò due risorse due persone che dovranno entrambi andare a trovare una risposta magari chiedere un terzo un quarto collega e quindi così si perdono 5, 10, 20 minuti di tempo che possono essere dedicati a fare altro magari qualcosa di più produttivo per rispondere a una domanda o capire qualcosa che non è chiaro con la comunicazione asincrona io mando un messaggio magari con la piattaforma di messaggistica al mio collega il mio collega si prende il tempo necessario per trovare la risposta e poi mi dà la risposta scritta che molte volte è molto più completa più precisa di quella parlata perché chiaramente per scrivere devo pensare filtro il mio pensiero ed ho un'informazione anche più corretta molte volte e soprattutto non diciamo molto più specifica e non interpretabile differentemente quindi questi i quattro capisaldi per far diventare un'azienda remote first quindi che mette a primo posto il lavoro da remoto noi in quanto in quanto Vox Loud siamo remote first Fabio assolutamente ormai diciamo già prima già prima della della pandemia facciamo smart working sì in maniera però ecco non così continua come lo stiamo facendo in questo momento ma poi con l'avvento del primo lockdown eccetera eccetera ovviamente le cose per noi sono cambiate siamo diventati veramente remote first in tutto e per tutto esatto sì abbiamo iniziato da molto tempo prima perché avendo anche molti sviluppatori altre persone che lavorano proprio da altri continenti lo possiamo dire allora è diventata poi una necessità una necessità che poi nel nostro caso è diventata anche un punto di forza che ci permette poi di crescere di avere meno costi e di essere molto più produttivi e poi comunque continuiamo sempre a vederci perché comunque facciamo meeting quindi non si è perso diciamo il contatto umano quindi Vox Radio in questo caso qua ha 50 dipendenti dove lavorano tutti da remoto chi dall'Italia chi magari ha lavorato dall'America chi si sposta continuamente quindi anche qui parliamo di quell'equilibrio tra vita privata e vita professionale che è possibile soltanto banalmente Francesco tanti tanti nostri dipendenti che insomma prima erano in Italia tra cui anche tanti a Roma qui con noi hanno preferito insomma per sviluppi della propria vita personale andare a vivere in altri in altri paesi e questo non le ha impeguito ecco di continuare a lavorare con noi ad esempio esatto esatto anzi è una cosa che porta anche molti più stimoli quindi questo è molto molto importante quindi 12 paesi e 3 uffici in 3 paesi differenti quindi questa è la struttura che abbiamo quindi anche noi siamo partiti da un ufficio e adesso non lo utilizziamo più se non per meeting o appunto necessità impellenti di vedersi fisicamente e questo comunque ci ha permesso di continuare di continuare a crescere ok Fabio vediamo andiamo un po' più nel concreto adesso quindi abbiamo parlato di smart working ma effettivamente se i miei dipendenti vanno a lavorare da casa o magari anche all'estero quali sono gli strumenti necessari che bisogna avere noi abbiamo individuato i quattro strumenti essenziali che devono esserci che possono sostenere e supportare il lavoro da remoto il primo l'abbiamo accennato poco fa è la messaggistica interna quindi partiamo dal più semplice un banalissimo Skype dove abbiamo la chat e la videoconferenza a un po' più complesso Microsoft Teams su pure Slack nel nostro caso in BoxLoud usiamo moltissimo Slack ci permette poi di andare a creare dei gruppi all'interno dei quali come quello marketing quello vendita quello supporto dove andare a parlare e confrontarsi su tutto quello che concerne il reparto ma anche fare videoconferenze condividere lo schermo quindi possiamo fare sostanzialmente di tutto su una singola piattaforma e ci permette di avere scambi molto più rapidi poi è importantissimo avere una piattaforma di condivisione ed archivio file quindi un Dropbox o una suite più completa come Google Drive che nel nostro caso utilizziamo Google Drive questo ci permette appunto come dicevamo poco fa di creare dei documenti andare a gestirli modificarli assieme una cosa che poi banalmente quando si lavora in ufficio è tecnicamente impossibile lavorare assieme su uno stesso documento sì magari è una sala di riunioni condividendo lo schermo e lavorando insieme però Fabio confermerai che lavorando con questo metodo quello che si può fare in un'ora lavorando su un documento condiviso lo si può fare in 5 minuti è molto molto più rapido e poi si possono chiaramente archivare tutti i file che sono necessari nel nostro caso ad esempio tutti i file anche inerenti all'azienda quindi probabilmente nella nostra azienda avete quella saletta in cui ci sono tutti i raccoglitori con i fogli del 2017 18 19 tutte queste cose qua possono essere anche digitalizzate quindi spazio risparmiato tempo risparmiato e denaro risparmiato poi soprattutto se appunto lavorate nel terziario e avete a che fare con clienti con potenziali clienti con assistenza e quant'altro sicuramente vi servirà ce l'avrete anche già un CRM quindi un software di gestione del cliente o un software di Airpdx oppure altri software che permettono di gestire ticket clienti o attività quindi in questo caso qua potrebbe essere un HubSpot potrebbe essere Intercom altri software che permettono di gestire tutte queste varie attività l'ultimo non per importanza è il Centro Union Cloud il Centro Union Cloud sostanzialmente poi fado entrare magari più nel merito di questo vi permette di comunicare internamente ed esternamente ovunque voi siate quindi in maniera molto molto flessibile direi senza dimenticare leggo l'ultimo punto che per lavorare da remoto è importantissimo ma questo è un po' scontato avere un buon computer una buona connessione a internet e delle cuffie di buona qualità dicevi bene Francesco come ha detto il Centro Union Cloud ultimo come punto ma non per importanza proprio perché la comunicazione è il cuore di ogni azienda quindi comunicare tra colleghi clienti e fornitori è il legante che permette poi alle aziende di essere ogni giorno il più efficienti possibili quindi ecco Smartworking e VoxLoud appunto il nostro centralino in cloud come diciamo come si vanno a a conoscere e ad unire ovviamente si va a usare il numero fisso ovunque ci si trovi ok come lo si usa tramite le app tramite l'app mobile quindi sia da dispositivo mobile dai nostri smartphone dal dispositivo desktop quindi dai computer oppure dai telefoni VoIP inoltre si possono creare gruppi regole ad esempio creare il gruppo commerciale il gruppo amministrazione all'interno del quale magari ci sono più persone così da andare a riunire dei reparti o uffici inoltre le integrazioni appunto che con i CRM quindi altri software o sistemi di ticketing eccetera eccetera questo cosa ci permette? ci permette ovviamente di avere più flessibilità più mobilità e sicuramente molti molti meno costi cosa è VoxLoud? Francesco su questo ovviamente adesso entriamo un pochettino nel merito di cosa è VoxLoud e come può aiutarvi ad implementare questo benedetto smart working tutto quello che ti serve il nostro claim è tutto quello che ti serve per la tua azienda in un unico posto quindi un centralino cloud che si attiva in 59 secondi quindi men che è un battito di ciglia praticamente una fibra ultra veloce che arriva fino a un gigabit per secondo e appunto le app come abbiamo detto sia mobile che desktop e i telefoni VoIP qui nella diciamo nella nella figura nell'immagine appunto ci sono c'è il nostro router c'è il nostro telefono c'è le nostre ci sono le nostre app sia desktop che mobile esatto Francesco la potenza delle integrazioni dimmi dimmi sì volevo spendere giusto due parole rapidissime su questo il fatto che si attiva in 59 secondi che poi a livello di comunicazione diamo tutto questa cosa qui l'abbiamo proprio studiata per per permettere poi alle aziende di avere un sistema di comunicazione completo quindi un centralino ma anche la connettività in alcuni casi se c'è necessità che sia veramente semplice da configurare perché chiaramente non va installato un centralino cloud è semplice poi da utilizzare quindi diciamo che è a prova di tecnico permette veramente in pochissimi secondi in qualche minuto di poter utilizzare proprio il numero il numero poi fisso aziendale magari anche il numero storico o più di uno se ne avete magari uno per ogni reparto ovunque voi siate quindi questa diciamo che la anche la forza di Vox Cloud è la possibilità di essere così flessibile nei piani nell'utilizzo e proprio nella gestione del numero di telefono permette poi di come dire andare a supportare lo smart working perché uno poi dei motivi per cui magari molte aziende ci è anche capitato di sentire quando abbiamo fatto delle consulenze che no non vuole andare a fare smart working perché magari il centralino non posso spostarlo perché ho server del centralino tutti i vari apparecchi cavi, cavetti così il cloud elimina tutto questo perché banalmente prendo il mio smartphone lavoro da casa col computer e posso utilizzare la linea fissa direttamente da casa ovunque ci sia una connessione internet quindi questa cosa qua lo vedremo anche più avanti è uno dei fattori che ha aiutato l'importante l'importante è che ci sia una connessione internet posso essere appunto dovunque anche dall'altro capo del mondo l'importante è che ci sia una connessione internet e posso utilizzare il numero fisso della mia azienda senza alcun tipo di problema esatto esatto poi vedremo anche un altro caso studio di un'azienda che grazie a questo per uscita in periodo di pandemia poi a rendere lo smart working in tutta l'azienda per tutti i dipendenti un'altra cosa di cui abbiamo accennato sono appunto le integrazioni cioè un centralino in cloud si può integrare cioè comunicare con altre piattaforme ad esempio col CRM che andate a utilizzare con un software di helpdesk oppure altri software di questo genere l'integrazione permette poi di avere tutti i dati ad esempio delle telefonate effettuate ricevute o la registrazione chiamate che è possibile in box loud è possibile vederli direttamente nel vostro CRM nella scheda utente ad esempio dall'altro lato poi nel vostro centralino in questo caso qui in box loud vedete nell'immagine in alto è possibile accedere direttamente senza passare nel CRM alla rubrica di contatti che avete appunto nel software quindi diciamo che le integrazioni abbiamo più di 50 però le sviluppiamo anche su richiesta senza alcun problema permettono poi di avere appunto centralino voce più altri software che comunicano assieme quindi Fabio abbiamo visto un po' perché box loud è diverso dall'altra soluzione quali vantaggi quali vantaggi si Francesco io ti interromperei solo un secondo magari per ricordare a chi magari non era con noi all'inizio che alla fine di questo webinar ovviamente ci sarà una sorpresa e ci sarà un'offerta insomma specifica per i partecipanti di questo webinar quindi vi invito a rimanere con noi fino alla fine di questo appuntamento come ci siamo detti insomma è una pausa a caffè che facciamo volentieri insieme un momento di un momento di relax assolutamente e non rimanete con noi fino alla fine così da non perdervi questa offerta esatto io approfitto Fabio che se magari qualcuno deve andare via però è interessato a quello che avremo da dire tra poco vi lascio anche il link nella chat per fissare un appuntamento direttamente con Fabio con un altro specialista vox loud e poi lì avrete appunto una consulenza gratuita su come implementare lo smart working nella comunicazione se lavorate da remoto e anche questa questa sorpresa che vi diremo tra poco quindi vado molto velocemente così poi andiamo al punto più interessante vox loud è diverso perché si attiva in 59 secondi probabilmente sul mercato è l'unico centralino che ha questa caratteristica quindi non aspetterete giorni potrete utilizzare immediatamente il numero di telefono nuovo o portare un altro che magari già avete ed è tutto veramente veramente immediato poi lo vedrete anche assieme a Fabio togli pure il probabilmente Francesco siamo gli unici in questo momento ad attivare un centralino in 59 secondi assolutamente qualcuno ci prova però non tutti ci riescono magari ci mettono qualche minuto in più poi siamo anche un fornitore unico per il centralino quindi la voce e per la connettività con la fibra ultra veloce non ci sono costi nascosti né costi di attivazione questa è una cosa che ci preme molto sottolineare perché siamo molto abituati con diciamo i grandi operatori a vedere appunto bollette che cambiano costi che magari sul sito hanno una cifra e poi magari quando firmo il contratto c'è un'altra cifra costi non detti costi di attivazione costi di questo tipo quindi proprio sono dei contratti da portare prima all'avvocato e poi stipulare in Vox Loud invece quello che vedete nel sito come costi poi vi passo anche il link nel nostro sito e quello che vi troverete poi nell'offerta e nelle varie bollette che arriveranno è un centralino in cloud quindi funziona su smartphone su computer e con i telefoni VoIP che diamo a noleggio quindi non dovrete acquistare nulla acquistate un abbonamento singolo come fosse Netflix o Spotify e poi vi arriva a casa direttamente se lo scegliete i telefoni inoltre anche qui probabilmente siamo in Italia forse gli unici che offriamo un servizio clienti dedicato e con una persona reale quindi non c'è un botto qualcun altro che vi risponde però proprio un tecnico che vi risponderà sette giorni su sette festivi compresi quindi il cliente Vox Loud non è mai letteralmente mai lasciato solo quindi questo è un po' per darvi una panoramica sul nostro prodotto Fabio parliamo anche di cosa ne pensano gli interventori che lo utilizzano certo così portiamo qualche caso insomma di reale di chi già ormai lavora con noi collabora con noi da un po' di anni queste ovviamente sono alcune delle recensioni che i nostri clienti hanno lasciato su Traspilot ma volendo insomma potete digitare tranquillamente Traspilot è uno dei motori diciamo di recensioni più conosciuti potete andare tranquillamente sul sito Traspilot e scrivere Vox Loud e andate a trovare tutte quante le nostre recensioni vi consiglio di leggerlo perché magari ci può essere anche qualche caso di qualche azienda simile alla vostra e potete capire come si sono trovati con noi come hanno trovato il servizio come hanno trovato la nostra assistenza i nostri consulenti commerciali quindi è sicuramente quindi è sicuramente utile insomma leggerle poi ovviamente il consiglio che vi faccio il consiglio che vi do è anche quello di andarle a paragonare non dico ai grandi delle comunicazioni perché le recensioni sono diametralmente opposte ma anche con tutti gli altri che vi propongono offerte a prezzi stracciati perché la differenza poi la fa il servizio la fa l'assistenza la fa le infrastrutture su cui si poggiano i server su cui si poggiano si poggia la stabilità poi del servizio stesso detto questo vediamo un po' cosa i nostri clienti apprezzano di VoxLoud ovviamente apprezzano il fatto che pagano solo ciò che usano non ci sono hardware da installare quindi non serve un tecnico ma anche il professionista di un altro qualsiasi settore che non sia un esperto di telecomunicazione o di informatica possa farlo tranquillamente senza alcun tipo di problema ok l'assistenza clienti al pari di Amazon questo ce l'hanno scritto proprio su qualche su qualche recensione quindi ne siamo assolutamente orgogliosi perché sappiamo che le assistenze Amazon sono tra le prime le prime al mondo centralino pensato per gli imprenditori quindi semplice ok non cose complesse perché ovviamente gli imprenditori devono concentrarsi su ben altri argomenti su come far girare bene le loro aziende quindi il centralino deve essere uno strumento che una volta impostato o se voglio andarlo a modificare deve essere qualcosa di facile veloce intuitivo quindi abbastanza immediato massima personalizzazione e flessibilità delle funzionalità anche questo si collega al punto precedente quindi qualcosa che si può personalizzare scalabile se aumento i miei dipendenti posso aumentare tranquillamente gli utenti all'interno del centralino quindi qualcosa se ho due aziende ad esempio posso avere un unico centralino se sono due sedi differenti tutte le cose che con un centralino come il nostro VoxLoud appunto si possono fare ecco alcuni dei traguardi di chi ha scelto VoxLoud in questo caso parliamo di Washout non so se lo conoscete ma tra un po' diciamo sentiremo direttamente le parole di Giuseppe CFO di Washout servizio ovviamente erogato sette giorni su sette più venti più venti dipendenti in smart working e ovviamente la flessibilità del centralino la semplificazione anche di tutti i loro numeri perché hanno diversi numeri e ora Giuseppe magari con con il video che andremo a sentire e a vedere ci racconterà qualcosina in più mi chiamo Giuseppe Esposito sono il CTO di Washout la nostra mission è quella di offrire servizi di pulizia e di cura dei veicoli in modo smart ecosostenibile e che faccia risparmiare tempo i nostri clienti sono clienti tipicamente B2C ma anche e soprattutto aziende siamo presenti nel territorio italiano in cinque città nelle maggiori città italiane quindi Milano Roma Torino Firenze e Bologna ma abbiamo come obiettivo tutta l'Italia e anche l'estero i maggiori problemi che abbiamo avuto nell'ambito della telefonia sono stati fondamentalmente due il primo è stato quello di avere un team di supporto ai clienti e ai nostri washer che fosse scalabile e il secondo grosso problema che abbiamo dovuto gestire è arrivato dalla pandemia dove la parola d'ordine che è entrata nel nostro vocabolario è stata smart working quindi la possibilità di non gestire più il team di supporto appunto localizzato in un punto fisico un unico punto fisico ma distribuito da remoto VoxLoud ha migliorato sicuramente la gestione e il setup del team di supporto ai clienti e ha semplificato anche la gestione dei numeri di telefono che utilizziamo per offrire il nostro supporto anche ai washer tre vantaggi principali sono sicuramente la flessibilità quindi la possibilità di utilizzare il servizio di VoxLoud tramite smartphone computer ma anche configurare dei telefoni VoIP il secondo punto di forza è un pannello di controllo che è facilmente gestibile un terzo vantaggio assolutamente da non sottovalutare è un help desk disponibile efficiente e molto molto competente VoxLoud per me significa gestire in modo semplice problemi complessi facendoti risparmiare tempo ed energie che puoi dedicare ad altro un po' quello che facciamo in washout consiglierei sicuramente il servizio di VoxLoud a tutte quelle aziende che hanno bisogno di un servizio ai clienti che sia scalabile e soprattutto che abbia la possibilità di venire gestito da remoto VoxLoud in tre parole semplicità scalabilità e competenza ok quindi insomma abbiamo ascoltato direttamente dalle parole di Giuseppe cosa pensa appunto del nostro del nostro servizio io passerei Francesco se sei d'accordo insomma andando a chiudere un pochettino il cerchio a quelli che sono appunto i vantaggi di VoxLoud come già ci dicevamo non ci sono costi di attivazione si attiva in 59 secondi completa autonomia e si paga solo ciò che appunto si stabilisce con il vostro specialista nell'offerta che vi viene poi inviata non ci sono interventi tecnici quindi è semplice ed immediato per tutti l'assistenza clienti Francesco vi viene già parlato sette giorni su sette festivi inclusi il servizio soddisfatto e rimborsato quindi è possibile attivare il servizio utilizzarlo per 30 giorni e se eventualmente ci si trova nella situazione di che magari il servizio non è quello che fa per voi eccetera eccetera si può tranquillamente cancellare l'abbonamento senza avere alcun tipo di vincolo quindi questo secondo me è un passaggio molto molto importante questi sono i piani voxloud sono in chiaro sul nostro sito quindi basta che andate su www.voxloud.com trovate la pagina prezzi e sono spiegati così come li vedete in questa slide tre tipi di piani il digital che prevede solamente l'utilizzo delle applicazioni mobile e desktop il phone che prevede solamente l'utilizzo di dei telefoni da scrivania o cordless e l'all inclusive che invece vi dà sia i telefoni fisici sia le app su smartphone e su pc in più ovviamente con l'all inclusive sono previsti anche le integrazioni incluse e anche la coda di chiamate i prezzi sono per singolo utente gli utenti minimi sono i tre tre utenti minimi previsti ovviamente per qualsiasi informazione contattate tranquillamente i nostri specialisti adesso vi dirò anche tra un po' vi dirò anche il perché vi converrà a prenotarvi un appuntamento e ovviamente vi spiegheranno tutto su quello che è la vostra esigenza specifica Francesco direi che è arrivato il momento delle domande e delle nostre risposte sì allora intanto vi passo se magari qualcuno deve scappare il link per andare a fissare appunto la chiamata con noi lo trovate nella chat dunque per quanto riguarda domande direi di lanciare anche allora la nostra la nostra offerta no? direi di sì le domande va di fretta può tranquillamente sofrirle visto che comunque ci ha seguito fino alla fine allora questo offerto ovviamente come vi dicevo è riservata a chi ha seguito il webinar di quest'oggi segnatevi questo codice smart15 ok prenotate questo diciamo questo codice è riservato a chi prenota in questo momento ok la consulenza gratuita quindi basta cliccare sul link che vi ha fornito Francesco in chat cliccando sul link si aprirà un calendario dove voi potete scegliere la data e l'ora che preferite per parlare con un nostro specialista che poi vi guiderà a su tutte le diciamo le condizioni migliori per poter usufruire del nostro servizio vi comunicate che avete questo codice smart15 perché appunto avete partecipato all'webinar sullo smartworking e otterrete immediatamente il 15% di sconto su qualsiasi piano che eventualmente andrete ad attivare quindi non dovrete neanche aprire bocca ma il nostro specialista vi metterà già un 15% di sconto su qualsiasi piano poi sarà quello congeniale alla vostra esigenza ok segnatevi questo codice smart15 e prenotatevi in questo momento sul link che vi ha messo Francesco in chat esatto così attivate oggi VoxLoud e domani già potrete lavorare in smartworking sì sì l'importante che dicevo in questo momento prenotino prenotino l'appuntamento con il nostro specialista soprattutto perché ci teniamo che i nostri diciamo i nostri potenziali clienti valutino bene tutte le tutte le potenzialità del servizio e soprattutto quello che fa per loro ok quindi non dobbiamo vendere a tutti i costi su questo ne siamo fermamente convinti non dobbiamo vendere a tutti i costi ma dobbiamo vendere a chi ha diciamo a chi ha a cuore la risoluzione dei propri problemi con il nostro servizio ok quello è il nostro assolutamente il nostro intento anzi saremo noi i primi a dirvi guardi il servizio non fa per lei perché semplicemente perché riteniamo che così sia giusto ed etico vendere ok Francesco diciamo questo insomma quello per l'offerta quanto per l'offerta l'abbiamo detto direi di passare alle domande vediamo le domande risposte sì allora vedo due domande di Emilio Emilio ci dice alcune domande uno se ho due sedi alcuni dipendenti in smart working dovrò usare più di un centralino Fabio questa è più per te mi sa sì sì assolutamente allora no assolutamente ciao Emilio innanzitutto assolutamente no come probabilmente vi accennavo solamente prima però magari adesso lo approfondisco un pochettino di più un centralino VoIP è assolutamente consigliato per chi ha due tre o cinque sedi ok si ha un unico solo centralino si può tranquillamente mettere in comunicazione tutte le sedi e tutti i dipendenti di tutte le sedi senza alcun tipo di problema quindi anche se ho alcune ho due sedi dieci dipendenti che lavorano in smart working potrò usare un unico centralino tutti loro saranno assolutamente in comunicazione tra di loro con un unico centralino l'importante ovviamente è che tutti debbano avere una connessione internet quello ormai diciamo è un parametro che diamo per scontato però è sempre bene ricordarlo la seconda domanda invece Francesco leggo quali strumenti usate voi quando lavorate da casa beh qualcuno l'abbiamo Francesco mi sembra che qualcuno l'ha detto sicuramente utilizziamo come programma diciamo di comunicazione interna oltre ovviamente al nostro centralino sulle comunicazioni voce utilizziamo tranquillamente il nostro centralino ma per servizi di mestaggistica utilizziamo Slack quello è uno diciamo dei nostri strumenti utilizziamo un CRM noi utilizziamo ad esempio HubSpot ma ce ne sono tanti c'è Salesforce c'è Zoho tanti servizi che comunque si integrano con il nostro centralino e per questo diciamo per noi è stato importante che HubSpot si integrasse con il nostro centralino proprio perché ci serviva un qualcosa che facesse comunicare i due sistemi esatto poi c'è anche il Google Drive esatto il sistema di ticketing insomma sono diversi diversi strumenti che utilizziamo però ecco tutti questi strumenti ci diciamo comunicano bene con quello che poi è il fulcro del nostro lavoro ovvero il nostro centralino esatto poi chiaramente per quanto riguarda le varie integrazioni con il centralino o quale CRM andrà a scegliere affinché riesca a comunicare bene appunto con il centralino che scegliete vi invito anche ad andare a vedere a leggere il nostro blog lo trovate poi nel sito certo e lì ci sono diversi articoli in cui andiamo proprio a parlare di quelle che sono magari le migliori alternative CRM più utilizzati che possono poi integrarsi con i centralini con Boxloud ma troverete anche molti altri articoli che vanno a parlare sia dello smart working sia di come diventare più produttivi con questi strumenti e molto molto altro ancora troverete poi anche una guida appunto una guida che abbiamo creato sullo smart working di più di 50 pagine dove andiamo a raccogliere poi tutta la nostra esperienza su questo una parte ve l'abbiamo detta nel webinar però se volete approfondire vi invito ancora una volta a fissare l'appuntamento con noi oppure magari a scriverci e rispondere una mail noi rispondiamo da qualsiasi supporto e siamo siamo a disposizione assolutamente ci sono altre domande Francesco? sì vedo un'altra domanda proprio di qualche minuto fa di Tommaso Tommaso ci chiede la qualità delle chiamate da app è paragonabile a quelle VoIP da fisso? assolutamente assolutamente sì Tommaso ovviamente diciamo la discriminante è sempre la connessione la connessione che si è in quel momento se ho una connessione 4G la chiamata diciamo con una buona con una buona banda in quel momento la chiamata è assolutamente limpida diciamo più che paragonabile a quelle da fisso chiaro che le variabili nel momento in cui la connessione sia una connessione wifi una connessione mobile sono maggiori rispetto a se è una connessione via cavo questo penso insomma penso che dalla domanda che hai posto già già la già la conosci però ovviamente sono sicuramente più variabili ma con una buona connessione le chiamate sono assolutamente paragonabili ma infatti diciamo da questo punto di vista i nostri clienti utilizzano anzi a livello di percentuale sono la maggior parte dei clienti utilizzano solamente le app quindi sia app desktop che app che app mobile esatto poi chiaramente quando si parla di lina fissa questo è poi il motivo per cui abbiamo anche creato VoxLad Wi-Fi che è la connettività proprio diciamo creata da VoxLad per poi andare a gestire al meglio possibile il centraline cloud certo certo è sicuramente un supporto in più esatto ok non vedo altre domande quindi se nel caso aveste qualche altro dubbio qualche altra domanda vi invito o a fissare l'appuntamento e parlare oppure grazie a te Tommaso c'è scritto in chat grazie oppure direttamente rispondere appunto alla mail che invieremo oggi e domani per i webinar o comunque insomma ci trovate online nei social quindi oppure anche via telefono ovviamente ci trovate una cosa in più che volevo aggiungere ecco proprio sulla domanda di Tommaso è che sicuramente sicuramente ecco il mese gratuito diciamo gratuito il mese di prova ovviamente è un mese con il soddisfatto rimborsati quindi non è una vera e propria prova è un soddisfatto rimborsati si paga comunque il primo mese dopo eventualmente si può nel caso non vada bene entro 30 giorni si può chiedere il rimborso quel mese di soddisfatto rimborsati lo si può utilizzare proprio per testare se io ad esempio sono in un punto dove il cellulare non mi prende mai ecco è difficile che possa utilizzare un servizio un servizio VoIP se invece sono in un ufficio in una casa eccetera eccetera dove il cellulare comunque è sempre raggiungibile è un'ottima connessione e allora in quel caso lì non ho alcun tipo di problema e anzi quel mese di soddisfatto rimborsati non potrà che confermarmi la bontà del tutto quindi su quello ecco fate tranquillamente affidamento è state diciamo quella è più che altro una garanzia ecco per voi per farvi stare tranquilli per farvi utilizzare il servizio e farvi rendere conto voi stessi della bontà del tutto ovviamente i nostri tecnici sono sempre poi a vostra completa disposizione quindi da questo punto di vista penso si possa fare assolutamente un buon lavoro ok ok Francesco mi sembra sia tutto per oggi ecco per chi non l'avesse ancora fatto visto che ancora comunque l'abbiamo mantenuta qui in sovrimpressione l'offerta prenotatevi ora con un appuntamento con i nostri specialisti è una consulenza vi ricordo assolutamente gratuita ok quindi senza nessun tipo di impegno vi consiglieranno quello che è il servizio e se è il servizio più adatto a voi con il piano più adatto a voi ditegli che avete questo codice preso nel webinar smart 15 e avrete automaticamente qualora poi andiate a stipulare un contratto con noi avrete il 15% di sconto vi faranno già un'offerta appunto con il 15% di sconto ok questo è assolutamente insomma un un'offerta specifica per i partecipanti di questo webinar per chi ci ha seguito fino alla fine e non mi resta altro che ringraziarvi di essere stati qui con noi Francesco grazie per per averci seguito in questo viaggio grazie a te Fabio e grazie a tutti voi per aver partecipato grazie a tutti a presto ciao ciao